La cosa che so fare più di tutti, e lo dico con presunzione, va bene? Sei presuntuoso? Sì, allora? Sono presuntuoso e quindi? La cosa che so fare più di tutti e più di voi pure, e ve lo dico più di voi, è sbagliare. Io a sbagliare sono il più bravo di tutti. Mi sono allenato tutta la vita per sbagliare meglio e sono contento di essere diventato così bravo. Perché grazie ai miei sbagli si sono andato avanti. La prima volta che ho preparato un piatto di pasta è venuto una merda. Poi l'ho rifatto, faceva schifo. Poi l'ho rifatto, faceva cagare. L'ho rifatto, l'ho buttato nella spazzatura. L'ho rifatto, buono. Ci ho messo una vita per imparare a fare un piatto di pasta. E grazie ai miei errori, se ci sono riuscito, se ti viene bene la prima volta, è perché c'hai culo. Le persone che ti dicono continuamente, tu sbagli, stai sbagliando, sono loro, le merde. E certo, perché quelli che ti dicono sempre che sbagli, sono le persone che non sbagliano mai. Perché neanche ci provano. Ecco perché non sbagliano. Le persone che sbagliano continuamente, invece lo sanno, che grazie agli sbagli, se sappiamo fare un piatto di pasta. Io sono il numero uno a fare gli errori. E voi non sarete mai come me. Ma sei presuntuoso, come fai a dirlo? Lo so, e su questo non mi sbaglio. E se per un mese usi solo prodotti bio, quale parte di te dimagrisce di più? Il portafoglio. Ieri hai perso ben due chili. Dov'eri? A un posto di blocco. Ma per favore. Già che si è vegetariani perché si amano gli animali, oppure perché... Si odiano le piante. L'omeopatia è curare un male con ciò che lo provoca. Quindi, quando fa caldo, che pasta mangi? Le benzemaniche. E a chi ha il metabolismo accelerato? Le indichie. Cosa dai a chi è affetto da nanismo? La crescenza. Se per dimagrire introduci solo banane e cetrioli, cosa succede? Che poi cammini male. Carboidratti alla sera. Bel tempo si spera. Prugne alla mattina. Il cesso si avvicina. Se avete sete, sarete dissetati. Se avete sonno, sarete assonnati. Se avete fame, sarete diffamati. E se ti lascia, lo sai che si fa. Trovi un altro. No. C'è cazzo non ce li capite da prima. Ah. Sola. La pace. Allora Tina, ti vuoi ripesare? Cosa vuoi fare? No, no, oggi no. Oggi no? Oggi no perché non sono andata in bagno oppure in giusto. Ahahahah.